buongiorno amici buongiorno amiche oggi come vedete cambiamo tema abbiamo un box che rende wireless il carplay cablato della vostra auto non abbiamo quindi nulla a che vedere con android con box android cose che abbiamo visto negli altri nostri video ma abbiamo un classico adattatore che rende carplay cablato lo rende wireless vedete in confezione abbiamo lui vedete molto piccolo con una type c e questo disegno che può piacere o non piacere questo è a vostro a vostro giudizio comunque non trattiene le ditate non è cheap è abbastanza abbastanza solido e leggero al al tatto quindi piccolo e carino type c basta poi in confezione cosa ci sarà chiaramente le istruzioni qui c'è sotto il due cavi vedete type c e usb normale type c type c a seconda della porta che avete a disposizione nella vostra auto le istruzioni la manualistica in inglese e questo è il il brand questo è il sito dove voi troverete anche moltissimi altri box questo è il più basico ma poi ne hanno dei bellissimi box android sia adattatori android wireless sia veri propri box android le istruzioni non sono scontate perché vedete sono in inglese però io già ho visto qua che c'è la possibilità di fare gli aggiornamenti via ota e questo non è non è una cosa da da tutti quindi magari vi consentirà una maggiore longevità del del prodotto nel corso degli degli anni adesso se io recupero un iphone farò anche un test quello che vi volevo dire è che il prezzo del prodotto è veramente piccolo perché sul sito viene venduto a poco più di 20 dollari e quindi se calcolate veramente siamo siamo ai minimi ai minimi storici quindi se avete un iphone e lo volete collegare alla vostra auto senza fili questa è la soluzione sicuramente più più economica io vi metterò in descrizione anche chiaramente il link d'acquisto e potete scrivermi nei commenti come come vi siete vi siete trovati se vi metterò anche la guida vi metterò anche la guida per l'aggiornamento del software ma comunque dovrebbe bastare quella presente nel manuale anche perché è molto è molto semplice per adesso vi saluto è solo un unboxing e ci vediamo al prossimo video